Ecco, voi Filippo, futuro cliento a Iron Gym. Ci vediamo prossimamente in palestra per la gran campagna autunnale, invernale, appunto, per tonificare per la prossima estate, perché questa qua ormai sono già bello, cioè è andata. Però per la prossima sicuramente ci sarà un'iscrizione. Guardate, è tipico uomo da fare, che sta sempre seduto. Eh, bisogna tonificare un pochino, eh! Ma lo dici te, comunque dai, ti voglio accontentare, verrà a fare l'iscrizione per l'autunnale, per diventare proprio perfetto, alla perfezione. Benissimo, ti aspettiamo. Perfetto. Ciao, Fillo. Ciao, Matti.